Stamattina a Trapani una conferenza stampa per presentare l'evento all'organizzazione del quale il territorio con il comune capologo capofila si candida. Presente a Palazzo D'Ali anche il presidente di Europeiadi che in questi giorni visiterà i comuni vicinori che hanno aderito al progetto. La manifestazione che è una rassegna dei gruppi folcloristici provenienti da tutta Europa avrà la durata di cinque giorni e si terrà nel mese di luglio. I giovani si esibirebbero nelle piazze e nei borghi diffondendo la cultura dei paesi europei. Intanto ci stiamo candidando e ci candidiamo come città ma come città e come territorio. Noi dobbiamo uscire dall'isolamento geopolitico e dire al mondo che siamo alla porta d'Europa, non siamo all'ultima città d'Europa. Questo significa ricostruire anche un percorso di riscatto della città e di visibilità internazionale, vuoi dal punto di vista culturale ma soprattutto dal punto di vista promotoristico. Destinazione del Trapani però vuol dire destinazione del territorio? Appunto, di fatti io la gioco, la declino come un Erasmus al contrario. Verranno qui circa, se vinciamo, cinquemila giovani. Parleranno di questa città, parleranno dei nostri territori, porteranno anche un pezzo della loro storia, della loro tradizione, del loro folclore. Dunque una contaminazione culturale pensando a un mondo, un paese, un'Europa che non abbia confini. Io sono il presidente della Commissione Europea, ma sono anche il sindaco di Frankberg, per cui in prima persona mi sono impegnato per l'organizzazione di questo evento attraverso la presa di contatti con le diverse nazioni e sono contento di promuovere la città di Trapani per la sua candidatura nel 2021 e creare questa sorta di relazione con il sud dell'Europa.